Nell'ottica di una intensificazione della campagna di prevenzione del melanoma attraverso un progetto di solidarietà sponsorizzato da Unicredit Banca, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori ha tenuto nella sede provinciale della Lilti Menfi un momento di approfondimento e studio alla presenza del vice area manager retail agrigento ovest di Unicredit Giovanni Bruno Brancati, il quale ha presentato le iniziative di solidarietà che Unicredit svolge dirette alle fasce più debole della popolazione e a programmi di utilità sociale. C'erano anche Mario Nufrio della Unicredit Palermo, Francesca Scandagliato Noto, presidente della sezione Lilti di Agrigento Lega Italiana lotta contro i tumori, il sindaco di Menfi Marilena Mauceri, l'assessore alla pubblica istruzione Nadia Curreri, quello alle politiche sociali Salvedo Ardizzone, il dermatologo della Lilt Gianluca Sciortino e Salvino Palilla del direttivo di Unicredit Menfi. Unicredit ha fornito un contributo economico alla sezione di agrigento della Lilt che consente di svolgere la campagna di prevenzione del melanoma in tutte le sedi. Sono state circa 3.000 le visite svolte nelle sedi Lilt della provincia e con il camper itinerante che ha permesso di raggiungere anche le persone residenti in territori più svantaggiati dove è più difficoltoso a causa della mancanza di servizi adeguati per lo svolgimento di una vista di prevenzione. Durante la serata il dottor Sciortino ha presentato il video dermatoscopio fotofinder che si usa nelle sedi e mostrato le modalità di utilizzo per l'indagine di primo livello nella diagnosi precoce del melanoma. Questa tecnica, ha spiegato il medico, si è dimostrata superiore alla precedente tecnica di epiluminescenza per risoluzione e rapidità di esecuzione. Il dottor Sciortino ha infine chiarito quanto la prevenzione sia un passaggio fondamentale per escludere, diagnosticare o monitorare un disturbo di carattere dermatologico. La presidente Franca Scandaliato Noto ha concluso ringraziando la responsabile della sede Lilt di Menfi, Anna Niselli, il professor Nicolo Lombardo, tutti presenti e gli altri volontari della sede di Menfi che hanno contribuito alla riuscita della serata.